Ciao a tutti e buon 8 marzo, quindi buona festa delle donne, auguri a tutte le donne, anche se molte di voi sono sicura non accetteranno questi auguri perché insomma è una festa un po' discussa diciamo. Comunque andiamo avanti e parliamo delle live che ci sono state ieri sera. Chiara ha aperto due live, c'è stata la live ovviamente serale di Davide, c'è stata anche la live di Senz'Anima. Poi non ho visto insomma se sono state aperte altre, se ne sono state aperte altre, però insomma io direi che già così era abbastanza, quindi andiamo a vedere che cosa si è detto. Nella live di Chiara adesso parla fiamma, praticamente erano lei e fiamma in questa live. Fiamma dice che è diventata la bestia di Satana da quando Chiara l'ha chiamata in live e lei è arrivata subito. Dice che poi si sono chiarite, da quel momento le sono arrivate insulti, offese, parolacce, minacce di morte e auguri di malattie varie. Spiega che tutto è cominciato una sera che era nella live di Misantropo e c'era il contabile che le faceva da moderator. Si sono messi insomma a chiacchierare di Chiara e fiamma ha preso le difese appunto di Chiara. Dopodiché il contabile ha detto a Misantropo che lui praticamente non voleva essere moderatore dove c'era anche la moderatrice di quella bestia, bestia ha riferito a Chiara e che quindi lui se ne sarebbe andato. Dice che non ha aspettato neanche che Misantropo finisse la live che subito il contabile ne ha aperto un'altra dal titolo Fiamma date fuoco. Io ricordo che molte volte il contabile ha spiegato che questo titolo non era per incentivare Fiamma a darsi fuoco ma era un gioco di parole sul fatto che si chiamasse Fiamma e che quindi era il fuoco. In ogni caso poi dice che il contabile è andato da senza anima che appunto ne hanno fatto questa live offendendola che hanno preso la palla al balzo per scatenarsi contro di lei portandosi dietro tutti i suoi ex utenti che le si erano rivoltati contro. E a questo punto Chiara dice che l'hanno fatto anche per andare contro di lei cioè hanno usato Fiamma per mettere in mezzo anche lei, lei e suo marito. Dice che nella sua live il contabile ha offeso anche lei appunto e Davide. Qualcuno scrive che nessun essere romano affezionato al proprio cane gli scava la fossa prima che muoia. Io devo dire semplicemente una cosa, anche questa cosa l'ha spiegata il contabile nel senso che il suo cane stava male, l'aveva portato dal veterinario e si era avanzata l'ipotesi che probabilmente questo cane fosse stato da sopprimere. Quindi c'è anche ovviamente lui di questa cosa avrà sofferto tantissimo perché insomma sappiamo tutti che quando abbiamo un cane o comunque un animale domestico qualunque esso sia insomma quando viene il tempo di lasciarla andare si soffre. Però è vero che poi si apre la porta anche a determinati problemi pratici come una volta che questo essere che io ho amato tanto se ne va, cosa posso fare per lui, dove posso sistemarlo? E purtroppo il contabile sapendo che poteva esserci questa eventualità cioè quella di doverlo sopprimere si è diciamo ha fatto i passi che doveva fare quindi gli ha preparato la tomba ecco non si può chiamare in nessun altro modo. Ovvio che l'avrà fatto con il cuore a pezzi insomma però ripeto c'è anche che si deve preparare anche praticamente per determinate situazioni non solo emotivamente ecco io non ci vedo sinceramente nulla di male. Poi per fortuna il cagnolino si è ripreso e quella tomba poi è diventata una buca, una buca senza nessun valore fortunatamente però insomma non c'era da prenderlo assolutamente in giro secondo me, secondo il mio parere. Comunque Chiara dice che ognuno al dolore reagisce in maniera personale e che comunque il punto non è quello, il punto è capire bene come è iniziata tutta questa diatriba insomma. Dice che poi Senz'Anima si è messo in mezzo a tutto questo che anche post che aveva fatto comunque non avevano nome certo che poi come dirà anche Senz'Anima nella sua live tu puoi anche non fare i nomi ma se i riferimenti sono come posso dire sono chiari tu lo sai insomma chi legge sa a chi ti stai riferendo quindi non c'è bisogno di fare i nomi. Come ha spiegato giustamente lei è come se io parlassi ad esempio di Chiara dicendo quella persona che ha gli zigomi che sembra lo scoiattolo che ha le riserve di cibo non ho fatto nomi ma ci si rende conto insomma che si sta ci si sta riferendo quindi il fatto di non fare nomi lascia il tempo che trova. Comunque Fiamma continua dicendo che il suo canale era incentrato sulla satira e sul perculo che finché lo faceva su Chiara andava bene a tutti ma se lo fa su altri non va bene e dice che questo è un chiaro segno di ipocrisia. Che l'accusano poi di aver detto una frase tipo allopecia sull'allopecia insomma sull'allopecia galoppante che lei si scusa con tutti quelli che si sono sentiti offesi per i suoi post ma ribadisce ancora una volta che comunque non riportava nomi. Chiara rispiega ancora una volta quello che è già stato detto cioè come sono andate più o meno le cose dicendo che hanno attaccato Fiamma anche per il suo disturbo borderline quando il contabile dice anche il contabile dice di avere problemi psichiatrici e nessuno lo ha mai diciamo deriso su questa cosa. Fiamma dice che quando lei faceva i video contro Chiara erano tutti a suo favore le dicevano brava insomma e quant'altro invece quando l'ha fatto contro altri le sono andati tutti contro mettendo anche di mezzo Chiara che sfruttano tutti per fare visualizzazioni. Chiara dal canto suo dice che sono tutti contro fiamma perché lei ha deciso di parlare con lei e di rimuovere tutti i video video sotto i quali la gente sfogava le sue frustrazioni e poi comincia a ricordare cose che ha detto senza anima tipo che le ha dato della scrofa che a misantropo le ha detto meno male che non puoi avere figli ha deriso il suo angio edema e poi insomma si lamenta che la chiamano palla di ma è stato spiegato da senza anima che quando chiamava in determinati modi Chiara lei lo faceva in privato con delle persone che comunque conoscevano anche Chiara io adesso non ricordo se erano tutti i moderatori di uno stesso canale quindi era un canale di moderatori o se era il canale della fantomatica setta. In ogni caso lei non ha mai detto quelle parole in live o comunque in video o quant'altro insomma le aveva dette in privato e sfida chiunque quando si parla in privato con determinate persone a non lasciarsi andare più o meno ad offese ecco anche se dice che ha detto mi ricordo anche in live precedenti che comunque non lo faceva più e che comunque quando parlava anche con i suoi moderatori aveva sempre chiamato Chiara col suo nome e che comunque tutto quello che è stato detto di lei lei si è ampiamente scusata anche con misantropo quindi hanno chiarito la situazione e sono comunque cose vecchie che Chiara riporta sempre a galla perché non ha cose nuove sul suo conto di cui parlare. Si chiede anche perché non ci si scandalizza che Senz'Anima sta sponsorizzando un canale dove l'intento della persona proprietaria di questo canale è di far sbattere fuori di casa tre persone e che la proprietaria di questo canale si inventa la qualunque su di loro allora in questo caso Chiara sta parlando di canale discolo allora io vorrei dire soltanto una cosa a Chiara tu dici sempre che hai diritto alla casa popolare e che a te di quello che fanno le persone non te ne può importare di meno perché tu hai diritto ad abitare in questa casa quindi ci abiti legalmente quindi a te se una persona parla di questa tematica e tu sei tranquilla perché abiti legalmente in questa casa cosa ti importa cioè anche se lei volesse sbatterti fuori non ci potrebbe riuscire non ci riesce se tu abiti in quella casa legalmente quindi la figura diciamo meschina al limite la fa lei non la fai tu quindi cosa cosa importa soprattutto cosa c'entra Senz'Anima in questa in questa in questa questa faccenda cioè Senz'Anima ha dato semplicemente una mano ad una ragazza alla quale era stato fatto cadere un canale che contava più di mille iscritti e l'aiutata a rifarsi un nuovo canale poi i contenuti che decide di portare questa persona saranno anche cavoli di questa persona cioè non vedo cosa c'entra poi Senz'Anima si deve mettere a fare la paladina di ciò che portano gli altri nei loro canali cioè io questo sinceramente non l'ho capito non l'ho compreso e dice che un'altra cosa che ha trovato di pessimo gusto è che quando era da nella live di Elena Sack praticamente Senz'Anima sentendosi la padrona del canale di Elena a me sinceramente e anche ad altre persone da quello che ho letto sotto i commenti l'effetto è stato tutt'altro e non che Senz'Anima si credesse la padrona comunque a un certo punto pare che Senz'Anima abbia detto a Patti muto cioè così Patti muto e non è tanto il fatto che gli abbia detto di stare zitto che l'ha sconvolta ma il fatto che Patti che vuole essere considerata una donna è stata appellata da Senz'Anima come fosse un uomo adesso molte volte anche Chiara si è sbagliata nel parlare con nel rivolgersi a Patti e questo io l'ho notato soprattutto in una live dove aveva sbagliato più volte poi anche chiedendo scusa però aveva sbagliato ma questo è normale io direi perché quando ci si rivolge ad una persona il cui sesso anagrafico è diverso dal sesso che lui percepisce è normale anche sbagliarsi non lo si fa con cattiveria cioè ci si può confondere è normale non lo si fa per prendere in giro questa persona sono sicura che Senz'Anima come sono sicura che anche Chiara non l'ha fatto per prendere in giro Patti quando si sono sbagliate a rivolgersi a lui dandole un appellativo diciamo che lui non sente quindi dandole del maschio ecco comunque ad un certo punto Davide dice che il contabile vuole avere diritto di replica che quindi vuole intervenire nella live e secondo me sarebbe stato interessante fare una live a tre e che ognuno insomma dicesse la propria sarebbe stato anche più chiarificatorio anche fra Fiamma e il contabile voglio dire però Chiara dice di no e dice che delle scuse del contabile lei non se ne fa nulla dopo quello che ha detto di lei e di suo marito dopodiché chiede a Fiamma se Senz'Anima ha mai sponsorizzato il suo canale o ha mai iscritto sotto i suoi video io credo che intendesse quando ancora Fiamma faceva i video contro di lei e lei e Fiamma dice di no io credo che ci sia rimasta un po' male Chiara perché a quel punto insomma si sarebbe aperto un altro mondo dice anche che Canale Discolo ha messo un video sul suo canale dove diciamo l'immagine di copertina è una mucca che diciamo fa un peto e dal sedere insomma gli esce una Fiamma e lei dice che quella è body shaming perché la mucca sarebbe Chiara e la Fiamma appunto sarebbe Fiamma però se è valido tutto il discorso che abbiamo fatto prima per quanto riguarda Fiamma cioè che non aveva messo i nomi e quindi nei suoi post e quindi era riferibile a chiunque e a nessuno la stessa cosa possiamo dire per questa copertina questa immagine di copertina anche se nel titolo c'è scritto Cerino, Kitty avete sbagliato indirizzo Cerino può essere chiunque Kitty altrettanto non sono stati fatti i nomi di Chiara e di Fiamma quindi anche questo può rivolgersi a tutti le chiedono se dovesse andare senza anima a chiederle scusa se lei le accetterebbe lei dice assolutamente di no ma io credo che insomma possa stare serena perché non penso sia un'eventualità verificabile e dice anche che se un giorno senza anima dovesse andarle a leccare il culo poi tutti diciamo un'utenza tutte le persone che la seguono adesso le andrebbero contro io penso che tutta l'utenza che la segue adesso insomma si chiederebbe come mai è impazzita cioè comunque ad un certo punto Chiara dice che è orgogliosa di Fiamma perché si è scusata insomma per i suoi post e quant'altro e anche Davide a questo punto si scusa perché ha parlato insomma l'ha interrotta parlandole del contabile io penso che magari volesse essere anche lui motivo di orgoglio per Chiara vai a sapere poi che succede alle due di notte Chiara apre una live intitolata contabile io sono qui evidentemente non si dormiva in quel di Milano perché insomma l'ora era abbastanza tarda e lei voleva fare questo confronto con il contabile comincia che lo chiama contabile io sono qui ditegli che io sono qui che l'aspetto insomma dove sei cioè Chiara alle due di notte c'è anche gente che dorme io lo so che è difficile pensare questa cosa però ci sono insomma afferma che dice che praticamente il contabile ha detto che lui non ha mai dato della bestia a Chiara però lei fa vedere uno screen dove c'è appunto il messaggio che il contabile aveva lasciato diciamo sulla chat di misantropo effettivamente si legge il messaggio che ha lasciato il contabile e cioè sei libera di mettere mod chi vuoi ma io non voglio esserlo se ci sta pure questa che modera le live di quella bestia quindi effettivamente insomma è stato dato della bestia a Chiara da parte del contabile comunque va avanti ancora aspettando che il contabile si faccia vivo io non so perché avrebbe dovuto farlo avrebbe avuto più senso ripeto farlo nella live dove c'era anche fiamma fare un come posso dire un confronto fra Chiara e il contabile soltanto poi alle due di notte cioè non ne vedo il senso ecco poi Chiara chiede al contabile se si vuole mettere con le persone di serie A lui che è di serie B e io ad un certo punto ho chiuso perché sinceramente non ce la faccio più vi dico sinceramente anche perché volevo andare a vedere la live di Davide perché nella live seriale di Davide c'era il titolo Senz'anima Taci sono andata a vederlo e insomma parte con le offese a Senz'anima dice che la cerchiettata oltre a dire minchiate a dire le stesse cose comunque che deve parlare dei suoi simili e di Croccantino che la sfrutta non lascia in pace la nonna dice che praticamente Senz'anima non lascia in pace la nonna io però mi permetterei di dire a Davide che chi tira in ballo la nonnina ogni tre per due è proprio sua moglie e non Senz'anima quindi se c'è qualcuno che deve lasciare riposare in pace questa povera persona che Dio veramente l'abbia in gloria è sua moglie e non Senz'anima e inoltre dice che dovrebbe allargare i cerchietti Senz'anima perché non passa sangue al cervello afferma anche che lei dice cazzate le dice sul letto sapessi Davide quante cazzate dette sul letto abbiamo ascoltato tutti e seduto sul letto non c'era Senz'anima e io direi che di cazzate ne abbiamo sentite anche tantissime da chi era seduto su un divano non faccio nomi dice che Senz'anima è una persona che fa body shaming alla moglie e che comunque se lui vuole insomma e mima lo schiacciare un insetto e io a quel punto ho chiuso perché perché già quando si mette Davide a parlare in una certa maniera a me dà fastidio perché poi ha quel modo molto arrogante molto non lo so dà fastidio cioè ragazzi a me dà fastidio e quindi ho chiuso non ho voluto più sentire nulla amen dicesse quello che gli pare cioè sinceramente anche fare un riassunto poi è difficile credetemi fare un riassunto e tenersi santi del calendario per se stessi perché alle volte veramente certe cose le tolgono dalla bocca comunque io la mia più o meno l'ho detta nel raccontarvi ciò che è accaduto però una cosa la voglio dire cioè io credo che tutti gli utenti di fiamma siano stati spiazzati dal suo comportamento cioè io l'ho detto molte volte ci sta di cambiare l'opinione su una persona perché magari io questa persona la conosco soltanto attraverso i video vedo quello che lei fa attraverso i video non la conosco personalmente quindi mi baso soltanto su quello che lei mi fa vedere però magari poi conoscendola anche nel reale frequentandola standole vicino insomma e quant'altro io possa cambiare opinione su questa persona ci sta quello che sembra strano è che il cambiamento di fiamma sia avvenuto in maniera così repentina cioè lei cinque minuti prima era a fiamma che faceva i video satirici e quant'altro contro Chiara e dopo averle parlato cinque dieci quindici minuti quello che volete voi al telefono lei ha cambiato totalmente opinione su questa persona è quello che non si capisce ed è per quello che le persone dicono che magari è un comportamento opportunista da parte di fiamma il fatto di essersi avvicinata a Chiara perché una persona come non la puoi conoscere seriamente nei video che propone non puoi conoscerla neanche in cinque minuti di telefonata perché è ovvio che quella persona in cinque minuti di telefonata se vuole portarti dalla sua parte ti racconta tutto quello che può servire a questo scopo quindi non è che la puoi conoscere bene per quello che è soltanto una frequentazione ma certe volte neanche di anni ti può permettere di conoscere una persona quindi figuriamoci cinque minuti comunque questo è tutto quello che volevo dire se vi è piaciuta questa live abbastanza lunghetta mettetevi un mi piace se volete iscrivetevi al canale se volete lasciatemi dei commenti ciao a tutti e buona giornata ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti